ragazzacci con il solito ritardo che mi contraddistingue eccoci qua per quello che gli youtuber chiamano speciale 100k la parolina magica che solitamente viene usata in questi casi per esprimere gratitudine e grazie ma voglio aggiungere dell'altro dovete sapere che voi siete semplicemente quello che definiamo quotidiano e in effetti credo che non ci siano parole più giuste per descrivere appieno quello che rappresentate voi per me voi siete quelli per cui ho aperto il canale sempre voi siete quelli che avete condiviso con me il viaggio ma soprattutto voi siete quelli che rispettate il mio pensiero e per questo motivo vi sarò sempre debitore ormai sono passate più di quattro anni dalla mia prima apparizione su youtube e lo facevo appunto con questa maglietta qua tra l'altro loghettino creato da me è proprio per questo fa così cagare ma dettagli ma vi ricordate il primo contenuto il primo video la prima creazione di neschio un gameplay su super mario il mio protagonista ludico preferito a questo punto fatevi il segno della croce andiamo a vedere un po come me la cavano super mario world il primo gioco della nintendo in cui appare il dinosauro yoshi anche la sigla eh ah però partiamo subito con questo gameplay ma prima illustriamo brevemente la trama tra ma abbastanza semplicistica come lo sono i vari super mario quindi questa non fa eccezione mario non so se ridere o piangere la trama di super mario succede come al solito che la principessa viene rapita mario luigi si mettono sulle sue tracce e si imbattono in giosci quest'ultimo gli rivela che altri sette giosci sono stati rapiti e rinchiusi nuova da dai vari bonzerotti e da bonzer e quindi il compito il compito nostro ossia di super mario è quello di recuperare queste sette uova e di riportare a casa la principessa facili tutto qua tutto tutto parlare valutiamo su yoshi island siamo appunto yoshi island siamo nel primo mondo che è l'isola di yoshi questo è un blocco vacante le definizioni e le definizioni precise perfette pulite eccolo qua eccolo questo è il fulcro di questo gioco il fulcro può mangiare il copa il fulcro scutare il copa rosso lo scuta sotto forma di fiamme ma poi la scazzatura la 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 scazzatura e cioè come come se vi facessi un favore no io sto là vi faccio un favore gioco per hai capito ho capito che l'inter quattro anni fa non stava nemmeno in centro quindi c'era un po di rabbia depressa magari però che cazzo in questo caso un app sono dei nemici con mangiare anche questi nemici attenzione se teniamo colpiti a bordo diciamo così bozza bozza anche un sorriso ma ogni tanto un sorrisino giusto o se fossimo piccoli non perdiamo la professionalità sempre professionale sempre serio metodico perché nel raccorte cinque e in un livello ce ne sono soltanto appunto sentire un po le informazioni e poi che questo tubo c'è dispenso al terzo blocco olandes interroge interrogettivo non c'è nemmeno un app negli altri invece c'è solo una moneta queste robe me le ricordo tutt'ora io ci sono cresciuto davvero questi giochi e pazzesco si poi puoi ritornare qua ma mi sale un po anche la nostalgia in questo momento blocco volante vediamo se sono più precisi questa volta si e prendiamo il fungo verde che ci fa guadagnare un'app però vedete le sottigliezze tecniche è fatto veramente bene come sto dicendo perché perché sentiamo proprio un controllo di mario veramente risulta veramente piacevole controllando risponde bene ai comandi questo volevo dire sto facendo cosa in lunga per dire una cosa così semplice il discorso di farla lunga mi è sempre un po congenito proprio cioè ce l'ho sempre avuto ce l'ho in alto possibile la bar il tocchettino al naso questo pure un tocco mio preciato sarà scappato almeno 30 volte già comunque allora mi viene da ridere mi viene da ridere a rivedermi ho vedo da questo livello andiamo appunto però cioè mi mantengo bene bisogna anche dire questo veramente esteticamente sono sono rimasto immutato e quei blocchi ragazzi che abbiamo visto come se fossero cento anni sono quattro anni poi alla fine ma poi il fatto che fossi intimidito si proprio nota cioè guardavo giù anche quando non c'era bisogno magari si bisognava dare uno sguardo alla telecamera ogni tanto una bozza alla telecamera non c'è cioè ma no queste robe devono cioè la di osce molto molto piccolina si completa facilmente l'isola di osce molto piccolina è una casa di tutto rispetto un bel canino e un melo una casa di tutto rispetto una mela è una moneta equivale a una moneta le monete sono contate in alto a destra la cosa che più mi impressiona è la seriosità con cui espongo i vari i vari argomenti le varie tematiche dato che noi già siamo in groppa nel caso in cui fungono la piattaforma fungono la piattaforma senti senti come spiega bene il ragazzo eh in blocchi solidi blocchi usati blocco girevole blocco girevole cioè queste sono tutte cose vere no buttateli a caso lo sai che quello è un blocco girevole abbiamo un contenitore con una cornice blu che contiene dei power up extra allora questo è un blocco bonus se nel livello noi abbiamo raccolto 30 monete se andiamo a colpire questo blocco rilascia una io non penso che abbiamo raccolto 30 monete non raccogliendole dovrebbe rilasciare solo una moneta infatti in questo caso rilascio questa cosa me la veramente me la sono me la sono studiata perché non me la ricordavo neanche adesso questa roba nonostante abbia giocato dall'età di tre anni a sto gioco qua che è uscito tra l'altro 91 92 90 mi sa mi sa 90 io sono 92 dice io cavolo da piccolissimo riuscito perso 50 volte poi l'ho recuperata e comunque non l'ho perso mai definitivamente senti è un po di vipana gloria e poi tra l'altro per ogni tanto sta bene anche quella è troppi ricordi troppi ricordi spiegate il messaggio box messaggio box che sono in inglese netto in inglese adesso sei sempre stata una capra non abbia bisogno di tante informazioni fortunatamente per me almeno quindi è molto intuitivo diciamo si giusto per dirlo è allora abbiamo raggiunto finalmente questo bonus game e allora c'è paolo schermo continua a parlare inglese come se ne come se la lingua fosse quasi di il padronanz sentiamo si va bene cazzato nello scatapasci 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 un uovo di osce un uovo di osce un uovo un uovo o uova un uovo per la prossima volta dovete perdonare gli enormi errori grammaticali ma un po di umiltà meno parte del gioco fanno parte del gioco si quelli te li danno proprio siamo quasi di comune accordo quando compri il caso andiamo subito dai che ci riprendiamo una delle sette uova una delle sette uova in questo caso va bene sto arrivando si si fa anche il il bulletto sto arrivando cioè eccolo qua il nostro iggy il primo dei sette pose rotti ce la fai e vabbè sa che mo ti faccio mo ti faccio compare mo ti faccio compare questa non è mica male e lo colpiamo devo dire che tiro al naso questo boh mini boss lo incontriamo all'inizio ma è uno tra i più ostici ma per gli altri sono almeno probabilmente però lo costavi quasi perde però gli altri c'è una questione mia personale è sicuramente riesco più agevolmente eliminare non che non sia capace neanche di eliminare questo perché l'ho fatto secco tranquillamente giustamente se sei un professionista un professorone si come nemici si si ed è strano perché è stranissimo poi tra l'altro primo castello trovare già un boss più ostico degli altri eh non va bene un ragionamento mio lasciamo stare eh sicuramente siamo arrivati a pianura ciambella il secondo mondo ma per oggi finisce qua finalmente commentate fate voi vedete se proprio volete mi stia piacento proseguiremo appunto nel prossimo video con pianura ciambella con il secondo secondo mini boss e niente tutto qua dopo sfogliato tutto qua vi lascio un grande abbraccio l'abbraccio è dopo da Nespio a questo punto lasciatemi dire la classica frase utilizzata tanto per pararsi il sedere non tutte le ciambelle escono col buco e quando lo fanno non sono di certo le mie mille volte grazie a presto o e b Grazie a tutti.